Ragazzi vorrei iniziare il video con qualche secondo di silenzio perché come potrete notare alle mie spalle non c'è più il nostro fedele compagno di viaggio perché siamo giunti alla conclusione che probabilmente il mio cane dato che ha raggiunto una certa maturità anagrafica non andrà più a pisciare sul tappeto o quantomeno questa qui è la nostra speranza ma questo onestamente poco importa la cosa triste è che purtroppo il tappeto non farà più parte di noi e passando invece ad un'altra cosa triste che però potrebbe essere bella carina simpatica pare che il Monaco sia interessato a tre giocatori della Juventus o meglio così ha riportato Di Marzio precisamente tre esuberi ormai vanno chiamati così ormai si chiamano esuberi non più giocatori precisamente Rugani, Matuidi e Mario Mandzukic solo che io onestamente a una certa mi sono anche abbastanza rotto i maroni perché van bene gli interessamenti cioè fanno piacere vuol dire che hai comunque la possibilità di vendere determinati giocatori però sai degli interessamenti ci fai abbastanza poco nel senso iniziate a fare delle offerte ma anche tipo 20 milioni per tutti e tre tanto dobbiamo venderli ve li diamo voglio dire no? però sai vedi Roma interessata a Rugani però no aspetta forse prendiamo Lovren quello interessata a quell'altro però aspetta è solo un interessamento basta adesso anche il Monaco tre giocatori così ci illudete cioè noi li dobbiamo vendere tutto quanto fa piacere che ci sia l'interessamento però farebbe ancora più piacere l'offerta dato che ve ne interessano tre facciamo un pacchetto unico facciamo il mega sconto è buona cioè l'interessamento alla fine ragazzi cioè va bene tutto però ce ne fai poco vogliamo fatti non le pugnette onestamente Di Marzio non ha parlato di cifre anche perché appunto pare che Paratici e quello del Monaco si siano visti ma non abbiano discusso più di tanto dei prezzi delle cifre dei cartellini e di tutta questa roba qui per esempio per Rugani si era parlato con la Roma di 5 milioni più 25 quindi una trentina di milioni per Matuidi pare che la richiesta della Juventus sia a grandi linee di 15 milioni Manzucchi c'era stato venduto per una nottata al Manchester United per 12-13 milioni facendo una somma complessiva si arriva più o meno a 55 milioni poi aggiungici il mega sconto perché comunque il Monaco potrebbe toglierti parecchie castagne dal fuoco e poi la cifra mettetela voi perché tanto qui ormai si parla solamente di interessamenti o magari quando arrivano le offerte concrete si ritirano quindi ragazzi io non so più cosa dire è bello riportare che il Monaco sia concretamente interessato a questi tre giocatori in partenza e niente c'è poi basta anche perché alla fine è meglio non farsi tante illusioni è meglio non fare tanti castelli perché poi le trattative saltano e quindi niente però è bello riportare questa notizia qui e niente io torno a piangere per il tappeto ciao 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 ciao